Difendersi dalle truffe è possibile. Le tecniche adottate dai truffatori, per quanto subdole e fantasiose, hanno schemi ricorrenti. Conoscerle è il primo passo per difendersi. Sono tantissime le strategie adottate dai truffatori per carpire la fiducia degli anziani. Dalla finta perdita di gas, dall'urgente pagamento di cauzioni inesistenti, fino ad arrivare alla sorpresa di un aspettato rimborso. I malviventi, infatti, approfittano della sensibilità emotiva e della fragilità fisica per conquistare la fiducia delle vittime. Se vi vengono chieste le vostre informazioni personali, soldi o di entrare in casa, chiamate subito l'112. Noi possiamo aiutarvi.